Ben trovati un aggiornamento con il TG di Trebimete, una bolla anticiclonica mantiene stabilità praticamente su mezzo Europa con temperature da primavera inoltrata, folli per essere fine febbraio non solo sul centro nord Italia. Nel corso di mercoledì abbiamo raggiunto anche i 23 gradi a Grosseto, Ferrara, Bolzano ma 22 gradi su un po' tutta la pianura padana ma anche su Spagna, Francia qui si va localmente anche oltre i 20-25 gradi addirittura a inizio settimana i 21 gradi sono stati raggiunti vicino a Londra in Inghilterra. Però piano piano le cose cambiano, andiamo a vedere di fatti quello che succede tra venerdì e sabato, una prima perturbazione atlantica cercherà di attaccare questa campana anticiclonica, quindi tra il pomeriggio e la serata più nubi sulle Alpi settentrionali con qualche fiocco di neve in quota e poi dei piovaschi si formeranno sulle Venezie, quindi tra Friuli e Veneto ma poi in serata raggiungeranno anche la Romagna e le Alte Marche. Poi perturbazione che nel corso di sabato mattina scivolerà proprio sul basso Adriatico e basso Tirreno con rapidissimi piovaschi nulla di che e un rinforzo di venti, migliora subito al centro nord. Andiamo a vedere di fatti la prossima grafica, ci conferma un finire di settimana quindi tra sabato pomeriggio ma soprattutto domenica con il ritorno nuovamente all'alta pressione sempre invadente ad ovest e quindi una domenica di bel tempo con clima abbiamo segnato non freddo perché sulla Valpadano occidentale, Piemonte e Lombardia ancora uscigliamo tra 17-19 gradi. Poi uno sguardo però a quello che potrebbe succedere la prossima settimana perché ripeto la prima decade di marzo sarà un po' più scoppiettante, difatti nuove perturbazioni da ovest e dall'aperto atlantico cercheranno di cacciare via, di sgonfiare questo pallone anticiclonico. Dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo visitando il nostro sito web.